Amici Tarantini e non solo, visto che i social arrivano in tutto il mondo, da consigliere comunale di Taranto di opposizione voglio farvi vedere le condizioni pietose in cui l'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci ha ridotto Taranto. Ci troviamo in via Principe Amedeo, nel pieno cuore Umbertino, alle spalle della posta centrale, quindi una zona non centrale ma centralissima, guardate il manto stradale, la corsia preferenziale per i bus, i taxi e per i mezzi di emergenza come ridotta. C'è praticamente una cresta, un dosso, un rigonfiamento del manto stradale che ha creato proprio una sporgenza, una cresta, non so come definirla. Numerosi mezzi sono andati a sbattere, riportando danni a causa di questo rigonfiamento. E tutto, vedete, un tratto parte da qui. Ecco, se vengo seguito con la telecamera, vedete cosa si viene a creare. I rischi che vi sono per i bus, per le ambulanze. Immaginate un povero ammalato che sta sulla barella e deve sobbalzare e salta in aria. Pensate ai bus, oltre ai danni agli ammortizzatori, ma ai danni che gli stessi utenti del bus subiscono, perché chiaramente ogni volta è un sobbalzo. E quindi è una situazione indegna. Io l'ho segnalata decine e decine di volte, ma l'assessorato ai lavori pubblici evidentemente se ne frega altamente. Caro sindaco Melucci, tu non giri la città, tu vivi a Crispiano, dormi a Crispiano, stai a Taranto giusto, fai le tue ore da sindaco, ma tu non giri la città, non ti vedono le persone in giro. Sei un sindaco fantasma, assente. L'assessore ai lavori pubblici fa il fighetto politicamente parlando, fa il belloccio, gira di qua e di là, parla di sviluppo di città green, di sviluppo green. E poi Mattia Giorno non sa che ci sono queste cose. Mattia Giorno, Mattia Giorno dove sei? Mattia Giorno dove sei? Guarda, guarda, è qui come se non bastasse, qui questo rigonfiamento, alto rigonfiamento, quindi si sale, guardate, 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 si sale e si scende. Si sale e si scende, si sale e si scende, guardate un po', immaginate ora, qui c'è una fermata del bus, i rischi che corrono, soprattutto gli anziani che salgono sul bus. Allora questo è il bus, io devo salire e devo rischiare di inciampare perché c'è un dislivello. Capito Melucci? Capito Mattia Giorno? Dove siete voi nel mondo delle nuvole? Nel mondo delle favole? Rimboccatevi le maniche, girate la città, consumate queste, le suole delle scarpe, come faccio io per denunciare le vostre mancanze, gravi mancanze, omissioni politiche. Sollevate il sedere dalla sedia e trottate, dovete vedere cosa accade in città, voi non lo sapete neanche, voi non avete perso il contatto con la realtà di tutti i giorni, non sapete neanche forse manco dove via Principe Amedeo e cosa sta qui. Se giraste sicuramente vedreste questi scempi, capito? Ma tanto non vi preoccupate, vi prendo io, sempre in senso metaforico, non in senso fisico, lungi da me ogni violenza, ogni minaccia, ma in senso politico, politico, vi prendo per il cravattino politicamente parlando e vi faccio vedere questo schifo. Capito? Sappiatelo cittadini di Taranto e sappiatelo internauti di Facebook, di Facebook. Sappiate che così l'amministrazione Melucci governa, anzi, passatevi il neologismo, sgoverna Taranto.